Per prima cosa non parlerò della fassatura della psicanalisi perché mi sono reso conto, anche se troppo tardi, che è un intervento troppo complesso, soprattutto troppo lungo, di cui tra l'altro abbiamo parlato con alcuni di noi e che comunque verrà pubblicato negli atti di questo convegno che sono previsti, pubblicati da Polimnia. E ho pensato quindi di sostituirlo con qualcosa, spero di più prendibile, che ho intitolato l'imbarazzo dello psicanalista. Il merito, seppur ce ne sarà uno, di questo intervento è di individuare un sintomo che può contribuire a fare maggior chiarezza su ciò che ha spinto, sulla ragione che ha spinto la maggior parte, la stragrande maggioranza degli analisti, ad aderire alla legge Ossicini. Al di là di quella ragione molto ovvia che è un loro adeguamento a una realpolitik che è al centro poi del discorso del padrone. A questo proposito, proprio perché non possiamo mai esimerci dal prendere in considerazione nel rapporto tra lo psicanalista e il potere, vale sempre la pena di ricordare un monito che Bion formulò nei seminari Tavisto, mi sembra nel 77, in cui metteva per il futuro la psicanalisi di fronte a un'alternativa. e vediamo se lo cito, questo è il possibile futuro con il quale la psicanalisi si trova a far fronte, disturbare le autorità oppure collaborare per imprigionare la mente umana e renderla innocua. Ora, non si tratta certo di trasformare il discorso psicanalitico in un discorso politico to cure e nemmeno in un discorso contro qualche autorità ma, come accennavo stamattina, di prendere in considerazione che lo psicanalista opera, secondo me non può che operare se non in quanto è scarto o rifiuto della società e questo comporta che la psicanalisi è all'interno di una dimensione che è quella del tragico e che può essere, come dire, compendiata dalle parole di Edipo a Colono quando tutte le rappresentazioni dell'essere sono crollate emerge questa sua frase è proprio adesso che non sono niente che sono un uomo in effetti mano a mano che attraverso un'analisi le identificazioni su cui l'io si sostiene cadono ci troviamo all'orizzonte di questa dimensione tragica in cui non c'è veramente più traccia né di psicologia né di psicoterapia ma e qui uso le parole di Giovanni Sias se lo psicanalista non coglie che ha di fronte un uomo senza alcuna oggettivazione che lo qualifica dal punto di vista psichico può solo impedire quell'evento che è l'esperienza psicanalitica anche se lo chiamerà psicanalisi e mi chiedo allora se non vi siano due psicanalisi così come due anime di Freud quella che qualcuno ha definito suggestivamente essere un tragico nell'epoca della scienza riferendosi a Freud o quella nota o meglio sancita per esempio dalla relazione dell'istituto di Berlino nel decennio 1920-1930 e hanno ragione coloro tra cui Simone Berti che individuano la legge Sicini come l'esito di un percorso che sta all'origine della della psicanalisi la sua anima medico-sanitaria questo rapporto che purtroppo non è stato tradotto in italiano ma c'è solo in tedesco è terribile proprio nel mostrare questa questa implacabile dimensione medico-sanitaria sancita da una prefazione allogiativa di Freud ecco e quindi o questa dimensione tragica oppure questa dimensione medico-sanitaria da un lato dove la teoria scinde il sapere dalla verità e lo racchiude in un discorso universitario che mira a una pura competenza tecnica quale psicanalisi allora e quale Freud dobbiamo decidere ecco la questione che ponevo nella falsatura della della psicanalisi ma veniamo adesso entro adesso nel merito dell'intervento che ho appunto volevo proporre l'imbarazzo dello psicanalista non mi riferisco di certo all'imbarazzo personale quello che per esempio può può cogliere un analista per a causa di una di una parola di un atto che un analizzante può dire o fare in seduta non credo che questo possa essere possibile se c'è effettivamente un analista che un analista possa essere imbarazzato da qualcosa di simile ma non è escluso e se lo fosse questo è il segno che c'è qualcosa che sta ancora in lui sotto rimozione e la tradizione analitica gli imporrebbe di ritornare formalmente analizzante e di sottoporsi a un'ulteriore tranche come si dice d'analisi d'altro canto non mi riferisco nemmeno all'imbarazzo che può essere causato un analista diciamo da questioni esterne all'analisi anche a questo cennavo stamattina per esempio qualcosa che può riguardare una sua vanità o una sua debolezza o ancora il fare un po' troppo il pieno appunto di questioni legate al discorso comune che a mio avviso lo ingravidano e rendono molto molto difficile lasciare il posto all'inconscio tra il proprio inconscio e quello dell'analizzante in quanto prima occorre sbarazzarsene se questo accade io ne ho avuto esperienza più volte e l'ho trovato orribile cioè l'atto psicoanalitico si riduce né più né meno che è un atto amministrativo quello di sbrigare una pratica per quello che ne so l'analisi non è una professione qui abbiamo la testimonianza flagrante e indiscutibile di Freud quando in una lettera a Ferenzi dice appunto che il professionismo è l'ultima maschera della resistenza alla psicanalisi è la più pericolosa di tutte e poiché non è una professione gli analisti non possono disporsi praticare l'analisi se non come dice brutalmente Mustapha Safouin sono nettoaié della juissance cioè nettati ripuliti dal godimento in altri termini non possono esercitarla come invece può fare senza problemi un professionista ma non un artista se sono separati dal loro atto come se questo atto si riducesse appunto all'esecuzione di una mansione tecnica in cui non impegnano il proprio essere alla fin fine si tratta di una situazione identica a quella del prete quando nel vacillamento della sua fede se non nella scomparsa non è più assolutamente in grado di rendere il suo servizio all'altro e benché evidentemente è possibile fingere è possibile indurirsi ed è possibile non trasformare convertire per non dire pervertire questo imbarazzo perché è di questo che si tratta nel momento nel momento in cui non siamo più nel sì non siamo più nel ecco non rinfilarmi la meloni anche mentre sto parlando per favore ecco ecco dicevo che è possibile pervertire questo 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 imbarazzo in una in una compunzione professionale Lacan ne ha parlato di su questo punto ossia in il quando un analista tradisce il proprio atto interviene un sintomo che è appunto questo della compunzione che modernamente è serietà e gravità professionale della propria alta missione da compiere ma che sotto questo significato moderno nasconde il significato antico di compunzione cioè essere punti essere punti da un un la propria indegnità nei confronti di Dio un pungolo un pungolo che ha tormentato e tuttora tormenta alcuni di noi e che probabilmente è anche l'origine di questo convegno laddove tanti altri appunto hanno chiuso e si limitano tuttora a una compunzione prettamente professionale quanto ho ancora? allora provo andare il più veloce possibile perché volevo arrivare almeno a farvi cogliere cosa intendo allora per l'imbarazzo dello psicanalista non so se riuscirò per la questione di tempo comunque se proviamo a immaginare l'inizio di ciascuna seduta vediamo che c'è appunto come dicevo stamattina un tempo molto prezioso molto difficile anche in cui l'analizzante tace per raccogliersi e cercare di sbarazzarsi di tutto ciò che lo martella che martella il suo io durante la giornata per riuscire a far posto all'inconscio cerca di disporsi a quel rapporto per ella dice giustamente scomodo e inquietante con la propria verità che l'analista ama in fortissimo grado dopo almeno questa è la mia esperienza poche sedute dall'inizio di una qualsiasi analisi anche tutto il discorso che originariamente partendo da una domanda di cura era un discorso di guarigione cade completamente fino a liberarsi anche del rapporto immaginario medico-paziente seppure è conservato ma solo ma solo formalmente a meno che l'analista implacabilmente non ricordi guarda che guardi che lei è lì per farsi curare anche se continuerà a parlare dei propri sintomi il discorso che l'analizzante fa è un discorso etico cioè come mi sono mi sono comportato bene o male in questa o in quella determinata occasione e perché non amo mio padre e questioni di questo tipo che non hanno assolutamente più nulla a che fare con un trattamento medico se poniamo l'attenzione a questo momento di raccoglimento o di silenzio vediamo che chi c'è da una parte non un paziente non un malato ma un uomo ricordate la citazione di Sies un uomo una donna o un bambino senza alcuna qualificazione psichica quindi isterico ossessivo perverso psicotico eccetera nulla di tutto questo un uomo una donna bambino sul punto di prendere la parola e si faccia attenzione che il prendere la parola in seduta è tutt'altra cosa che il modo avvilente in cui di solito crediamo di prendere la parola è un atto vero e proprio che comporta il passaggio di una soglia e che non è privo di una certa angoscia e dall'altra parte chi c'è? C'è qualcuno in attesa che qualcun altro prenda la parola ancora una volta però attenzione non ho detto che si tratta di un analista perché non c'è ancora nessun analista a questo livello l'analista non è legato a un proprio esserci quando noi qua ci presentiamo come psicanalisti facciamo una sorta di finzione per non dire che mentiamo non è possibile slegare dissociare l'analista dal suo atto è solo nel momento in cui l'inconscio dell'analizzante si schiude e permette all'inconscio dell'analista di intervenire che c'è dell'analista solo ed esattamente in quel momento non sappiamo nessuno di noi può sapere assolutamente nulla di cosa l'analizzante dirà di quale strada prenderà l'analisi di quale fine può avere a meno che non ci si ribarrichi nell'alibi di sempre la cura la cura medica allora mi chiedo com'è possibile anche solo pensare di regolamentare giuridicamente un atto di cui nessuno sa assolutamente niente a cominciare da chi lo pratica e concludo questo atto questo momento di silenzio inizio di ogni analisi perché ogni seduta ricomincia qualcosa comporta un imbarazzo direi di natura strutturale in cui non c'è nessuno ancora che ripeto l'analista ci sarà o dell'analista ci sarà quando ci sarà l'enunciazione dell'analizzante e non solo ma quando qualcosa del suo inconscio si aprirà allora in questo momento è un momento di attesa prezioso si tratta solo di aspettare ma non è un'attesa facile anzi è un'attesa che può portare per ovviare a questo imbarazzo a schermarsi dietro che cosa dietro la psicanalisi pensata come una professione o una competenza professionale non è finisco con questa citazione di ecco di Lacan tratto da seminario o pir o peggio quanto più lo psicanalista è imbarazzato dalla sua posizione tanto più sarà disposto a ricevere i consigli dell'esperienza e quindi a trasformare a imbrogliare a entrare nella dimensione delle scrocherie dell'imbroglio ecco ecco ecco